Sotto una copiosa pioggia come oggi, lo stesso 24 maggio ma nel 1848, donne e uomini del risorgimento vicentino opposero alla polveriera della rocchetta una vigorosa resistenza alle truppe imperiali austriache guidate dallo stato maggiore del maresciallo Radeschi, un'eroica difesa che valsa la bandiera della città la prima medaglia d'oro al valor militare. Vicenza non dimentica e oggi a ricordare quell'evento è stata posta ufficialmente una targa informativa alla presenza dei rappresentanti del comune e delle associazioni combattentistiche. Per ricordare ai vicentini di oggi le gesta dei loro nonni contro l'impero austriaco per il senso di patriottismo e di appartenenza al popolo.